Il superiore, il molto reverendo John Conmey S.J., rimise l'orologio liscio nella tasca interna scendendo la scala del presbiterio. Le tre meno cinque. C'è giusto il tempo per andare a piedi fino ad Artein. Come si chiamava quel ragazzo? Dignam, sì. Veredignum et justum est. Padre Swan era la persona da interpellare. La lettera di Mr Cunningham, sì. Usargli cortesia, se possibile. Buon cattolico attivo. Utile al tempo delle missioni. Un marinaio con una gamba sola, che si spingeva avanti a pigri strattoni delle stampelle, ringhiava alcune note. Si fermò con uno strattone davanti al convento delle suore di carità e tese un berretto dalla visiera a punta per l'elemosina verso il molto reverendo John Conmey S.J. Padre Conmey lo benedisse al sole perché il suo borsellino, lo sapeva bene, conteneva una sola corona d'argento. Padre Conmey attraversò la strada in direzione di Mount Jey Square. Pensò, ma non per molto tempo, ai soldati e marinai che con le gambe mozze dalle cannonate terminavano i loro giorni in qualche corsia d'ospizio. E alle parole del cardinale Wolsey. Se avessi servito il mio Dio come ho servito il mio re, egli non mi avrebbe abbandonato nei giorni della vecchiaia. Camminava all'ombra alberata di foglie solammiccanti e verso di lui venne la moglie di Mr. David Sheehy, deputato al Parlamento. Benissimo padre, veramente. E lei padre? Padre Conmey stava davvero benissimo. Probabilmente sarebbe andato a Buxton per la cura delle acque. E i suoi figliuoli? Si trovavano bene a bel vedere? Ah, davvero? Padre Conmey era proprio contento di saperlo. E Mr. Sheehy ancora a Londra. Già il Parlamento era ancora aperto. Bel tempo faceva. Meraviglioso davvero. Si. Era probabilissimo che padre Bernard Vaughan tornasse a predicare. Oh si. Un grandissimo successo. Proprio un uomo meraviglioso. Padre Conmey era felicissimo di vedere che la moglie dell'onorevole David Sheehy stava così bene in salute e la pregò di ricordarlo all'onorevole David Sheehy. Sì, avrebbe senz'altro fatto una visita. Buonasera, Mrs. Sheehy. Nell'accommiatarsi padre Conmey si tolse il cappello di seta e sorrise, mentre si congedava, alle perline nere della mantiglia di lei che mandavano lampi d'inchiostro nella luce del sole. E sorrise ancora una volta nell'allontanarsi. Si era pulito i denti, lo sapeva bene, con pasta di noce di palma. Padre Conmey camminava. E camminando sorrideva al pensiero di padre Bernard Vaughan con quei suoi buffi occhi e quella sua voce da Cockney. Pilato, perché non tieni a bada quella marmaglia urlante? Un uomo zelante, comunque. Certo che lo era. E certo faceva del gran bene a modo suo. Non c'era dubbio. Diceva di amare l'Irlanda, lui, e di amare gli irlandesi. E di buona famiglia, poi, chi l'avrebbe mai detto? Gallesi, no? Oh, attento a non dimenticarsene. Quella lettera al padre provinciale. Padre Conmey fermò tre scolaretti all'angolo di Mount Jai Square. Sì, erano di bel vedere. La casetta. Ah ah. Ed erano bravi ragazzi a scuola? Oh, allora benissimo. E come si chiamava? Jack Sohan. E quell'altro? Ger Gallaire. E quell'altro metto? Si chiamava Brunny Lennam. Oh, quello sì era un bel nome. Padre Conmey dette una lettera che teneva nella tasca sul petto al signorino Brunny Lennam e indicò la rossa cassetta delle lettere all'angolo di Fitzgibbon Street. Ma attenzione a non infilartici anche tu nella cassetta, omettino, disse. I ragazzi sgranarono sei pupille su padre Conmey e risero. Oh, padre! Beh, vediamo se sai impostare una lettera, disse padre Conmey. Il signorino Brunny Lennam attraversò di corsa la strada e mise la lettera di padre Conmey al padre provinciale nella bocca della cassetta rosso fiammante. Padre Conmey sorrise e annui e sorrise e s'incamminò lungo il lato est di Mount Jai Square. Mr. Dennis J. McGinney, professore di danza etc., in cappello duro, marsina color ardesia con risvolti di seta, cravatta bianca a fiocco, pantaloni lavanda attillati, guanti color canarino e scarpette di cupale a punta, avanzando con grave portamento, si fece molto rispettosamente da parte per cedere il passo a Lady Maxwell all'angolo di Dignan's core. Non era mica Mrs. McGinney? Mrs. McGinney, imponente, argente e lechiome, fece un inchino a padre Conmey dal marciapiede opposto lungo il quale veleggiava. E padre Conmey sorrise e salutò. Come stava? Bel portamento il suo. Come Maria Regina degli Scozzesi. Qualcosa del genere. E pensare che faceva l'usuraia. Boh. Con un, come dire, un aspetto così regale. Padre Conmey scese giù per Great Charles Street e lanciò un'occhiata alla Chiesa Libera, ermeticamente chiusa sulla sua sinistra. Parlerà di V. il reverendo T. R. Green B. A. Lo chiamavano l'incombente. Sentiva incombere il bisogno di dir qualche parola. Ma bisognava essere caritatevoli. Ignoranza invincibile. Agivano in base ai loro scarsi lumi. Padre Conmey svoltò l'angolo e imboccò la strada di circonvallazione Nord. Straordinario che non ci fosse una linea tramviaria lungo un'arteria così importante. Certo avrebbe dovuto esserci. Un gruppo di scolari con le loro cartelle attraversò la strada venendo da Richmond Street. Si tolsero tutti i loro berretti gualciti. Padre Conmey li salutò più di una volta benignamente. Ragazzi delle scuole dei fratelli cristiani. Padre Conmey nel camminare avvertì odore di incenso sulla mano destra. La chiesa di San Giuseppe a Portland Row. Per donne anziane e virtuose. Padre Conmey si levò il cappello davanti al Santissimo Sacramento. Virtuose ma qualche volta erano bisbetiche. Nei pressi del palazzo al Borough padre Conmey pensò a quel nobile spendaccione. E ora c'erano degli uffici. O simili. Padre Conmey si incamminò per North Strand Road e ricevette il saluto di Mr William Gallagher che era sulla soglia della sua bottega. Padre Conmey salutò Mr William Gallagher e percepì gli odori provenienti dai quarti di lardo e dai grossi pani di burro. Oltrepassò Grogan il tabaccaio al cui negozio erano appoggiati tabelloni di giornali che parlavano di una spaventosa catastrofe a New York. In America quelle cose capitavano continuamente. Disgraziati. Morire in quel modo. Impreparati. Eppure un atto di perfetta contrizione. Padre Conmey oltrepassò il bar di Daniel Bergin contro la cui vetrina oziavano due disoccupati. Lo salutarono e furono a loro volta salutati. Padre Conmey passò davanti all'impresa di pompe funebri H. J. O'Neill dove Corny Keller allineava cifre sul brogliaccio masticando una pagliuzza. Un vigile di servizio salutò padre Conmey e padre Conmey salutò il vigile. Da Huckstetter norcino padre Conmey osservò dei salsicciotti bianchi e neri e rossi arrotolati ordinatamente a spirale. Ormeggiato sotto gli alberi di Charles Wilmel, padre Conmey vide una chiatta da torba, un cavallo da tiro a testa penzoloni, un barcaiolo con cappello di paglia sporco seduto sulla chiatta a fumare, con gli occhi fissi su un ramo di pioppo sovrastante. Era una scena idillica e padre Conmey riflette sulla provvidenza del creatore, che aveva messo la torba nelle paludi, di dove gli uomini potevano cavarla e portarla nelle città e nei borghi per accendere il fuoco nelle case dei poverelli. Sul ponte Newcomen il molto reverendo John Conmey S. J. della chiesa di San Francesco Saverio a Gardiner Street Superiore salì su un tram diretto alla periferia. Da un tram in arrivo dalla periferia il reverendo Nicholas Dudley C. C. della chiesa di Sant'Agata a North William Street discese al ponte Newcomen. Al ponte Newcomen padre Conmey salì su un tram diretto alla periferia perché non gli piaceva di traversare a piedi la triste strada che costeggia Mad Island. Padre Conmey sedette in un angolo della vettura con il biglietto azzurro infilato con cura nell'occhiello di un paffuto guanto di capretto, mentre quattro scellini, una moneta da sei pence e cinque penni scivolavano dal palmo dell'altro guanto paffuto nel borsellino. Oltrepassando la chiesa coperta d'edera gli venne in mente che il controllore di solito si presentava quando senza pensarci si era buttato via il biglietto. La gravità dei passeggeri nella vettura sembrava eccessiva a padre Conmey trattandosi di un tragitto così breve e a buon mercato. A padre Conmey piaceva una dignità non priva di gaiezza. Era una giornata tranquilla. Il signore con gli occhiali di fronte a padre Conmey aveva finito di dare spiegazioni e abbassava lo sguardo. Sua moglie, arguì padre Conmey. Un minuscolo sbadiglio fece aprire la bocca alla moglie del signore con gli occhiali. Alzò un piccolo pugno guantato, sbadigliò ma tanto garbatamente, dandosi colpetti col piccolo pugno guantato sulla bocca che si apriva e sorrise appena appena dolcemente. Padre Conmey avvertì il suo profumo nella vettura. Avvertì pure che il goffo individuo che l'era al fianco dall'altra parte sedeva sull'orlo del sedile. Padre Conmey alla balaustra dell'altare aveva qualche difficoltà a mettere l'ostia in bocca al goffo vecchio cui tremolava la testa. Al ponte Hensley il tram si fermò e quando fu in procinto di ripartire una vecchia si alzò ad un tratto dal suo posto per scendere. Il bigliettaio suonò il campanello per far fermare la vettura. Sfilò davanti agli altri col suo paniere e la reticella della spesa. E padre Conmey vide che il bigliettaio aiutava a scendere lei e la reticella e il paniere. E padre Conmey pensò che siccome la donna aveva quasi oltrepassato il termine della corsa da un Penny fosse una di quelle brave persone cui si deve sempre dire due volte ti benedico figlia mia e che sono state assolte pregate per me ma avevano tante preoccupazioni nella loro vita tanti pensieri povere creature. Dai cartelloni mister Eugene Stratton ghignava con le sue grosse labbra da negro all'indirizzo di padre Conmey. Padre Conmey pensò alle anime dei neri e dei caffè latte e dei gialli e al suo sermone su San Pietro Clavers S. J. e la missione africana e alla diffusione della fede e ai milioni di anime nere, caffè latte e gialle che non avevano ricevuto il battesimo dell'acqua quando la loro ultima ora giungeva come un ladro nella notte. Quel libro del gesuita belga, le nombre deselieux, sembrava padre Conmey che sostenesse una tesi ragionevole. Erano milioni di anime umane create da Dio a sua immagine e somiglianza alle quali la fede di vous non era stata portata. Ma erano anime di Dio, create da Dio. Sembrava a padre Conmey che fosse un peccato che dovessero andar tutte perdute. Uno spreco, per così dire. Alla fermata di Off Road padre Conmey scese. Fu salutato dal bigliettaio e salutò a sua volta. La strada di Malahide era tranquilla. Piacevano a padre Conmey la strada e il nome. Campane a festa rintoccavano nell'allegra Malahide. Lord Talbot de Malahide Lord Ammiraglio per diritto ereditario diretto di Malahide dei Mari Aviacinti. Poi ci fu la chiamata alle armi ed essa fu vergine, sposa e vedoa tutto in un solo giorno. Erano quelli bei tempi antichi, tempi di fedel sudditanza nelle gaie cittadine, i bei tempi della baronia. Padre Conmey, camminando, pensò al suo libretto I bei tempi della baronia e al libro che si sarebbe potuto scrivere sulle istituzioni dei Gesuiti e Mary Rochefort, la figlia di Lord Molesworth, prima contessa di belvedere. Una dama svogliata, non più giovane, passeggiava da sola lungo la sponda del lago Ennel. Mary, prima contessa di belvedere, svogliata a passeggiar la sera, senza trasalire al tuffo di una lontra. Chi mai sapeva la verità? Non certo il geloso Lord Belvedere e neanche il suo confessore, se lei non aveva consumato pienamente l'adulterio eiaculatio seminis intervas naturale mulieris col fratello di suo marito. Confesserebbe a metà, se non avesse peccato del tutto, come a costume delle femmine. Solo Dio lo sapeva e lei e lui, il fratello di suo marito. Padre Conmey pensava a quella incontinenza tirannica, pertanto necessaria alla razza degli uomini sulla terra e alle vie di Dio che non sono le nostre. Don John Conmey camminava e si muoveva nei Dio che furo. Quivi era umano e onorato. Teneva a mente i segreti confessati e sorrideva a nobili volti sorridenti in un salotto lustro di cera d'api col soffitto inghirlandato di frutta mature. E le mani di una sposa e di uno sposo, nobile con nobile, erano unite palma a palma da Don John Conmey. Era una giornata incantevole. Il cancello di un campo mostrò a padre Conmey distese di cavoli che gli facevano la reverenza con l'ampio fogliame. Il cielo gli mostrò un greggio di nuvolette bianche portate lentamente dal vento. Mutonné, dicono i francesi. Parola familiare appropriata. Padre Conmey, leggendo l'uffizio, osservava un greggio di nubi montoneggianti sopra Red Coffee. Le sue caviglie ingueinate dalle calze fini furono titillate dalla stoppia del campo di Klongaus. Lui ci veniva a passeggio la sera, a leggere il breviario, e sentiva le grida delle squadre di ragazzi intenti ai loro giochi, grida giovanili nella quiete della sera. Era il loro rettore. Il suo regno era mite. Padre Conmey si sfilò i guanti e tirò fuori il breviario bordato di rosso. Un segnalibro d'avorio indicava la pagina. Ora nona. L'avrebbe dovuta leggere prima di colazione, ma era venuta Lady Maxwell. Padre Conmey lesse in segreto pater e ave e si fece il segno della croce. Deus in auditorium. Passeggiava tranquillo e leggeva silenziosamente le preghiere dell'ora nona. Passeggiando e leggendo. Finché non arrivò a res in beati immaculati. Principium verborum tuorum veritas in eternum omnia iudicia iustizie tue. Un giovanotto accaldato sbucò dal varco d'una siepe e lo seguì una ragazza con delle margheritine di campo che le tremavano in mano. Il giovanotto si levò il berretto bruscamente. La ragazza bruscamente si chinò e lentamente con cura si staccò un ramoscello dalla sottana leggera. Padre Conmey li benedisse ambedue gravemente e voltò una sottile pagina del suo breviario. SIN PRINCIPES PERSECUTI SUNT ME GRATIS ETA VERBIS TUES FORMIDAVIT COR MEUM. SIN PRINCIPES PERSECUTI SUNT ME GRATIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS. SIN PRINCIPES PERSECUTI SUNT ME GRATIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS ETA VERBIS.